Oh! Ecco che arriverà l'esplosione! Wow! Non è soddisfacente! Adoro questi cosi! Piove! Tutto quello che ho è qui, ma è molto soddisfacente! Ehi, dammi! Fermati! No! Cos'è stato? Non va affatto bene! Chi è stato? È stata lei! No, lei! Io non ho di certo! Ho sentito abbastanza! Andrete in prigione! No! Entrate dentro! Oh no! Ehi, qua giù! Non importa! Fa troppo freddo! Davvero? Molto meglio! Ehi, almeno ci ho provato! Questo sarà il mio letto! Cavolo, ma è fantastico! È disgustoso! Non posso vivere in un posto del genere? Che schifo! Niente un po' di verde possa risolvere! Molto meglio! La nostra stanza è bellissima! Nostra? No! È la mia stanza! Non oltrepassare questa linea, altrimenti mi hai capita! Ehi! Cosa? È come se ci fosse un muro! Esattamente! Addio! Oh! Che si cattiva! Ehi! Fate silenzio! Vieni da papà! Ho una fame da lupi! Avresti qualcosa per me? Accidenti! Ok, va bene! Delizioso! Buon appetito! Oh no! Tieni! Grazie! Non di nuovo! Da! Eccoti signora! Il mio cibo! Cosa? Ma è un hot dog! Sono così fortunata! E ora si mangia! Forchetta, sei pronta? Ehi! Cos'hai che non va? Mi hai tradita! Ora ci siamo! Forza! Non funziona! Non riuscirò mai a mangiare! Lascia fare a me! Devo fare tutto io qui dentro! Dai! Piegati! Ok! Dovrebbe bastare! La vuoi? Ah? Sì! Andiamoci dentro! Sta funzionando! Wow! Che meraviglia! Ed è anche molto buono! Non riesco a tenerne nemmeno uno in mano! E a me non ci pensa nessuno! Dovrei avere qualcosa! Sì! Ehi! Prendi! Una fettatrice! Sì! Va bene! Affettiamo un po' di hot dog! Ci siamo? Caspita! Che differenza! Ora aggiungiamo delle altre cose! Chi mangia gli hot dog senza condimenti? Questo era un ottimo! Ma è finito troppo presto! Ma posso rimediare? Mio! Un vero miracolo! Non credo proprio! Sei una morella! Ho bisogno anch'io di mangiare! E ora! Penso di avere un piano! Adesso tu mi darai da mangiare! Hai capito? Dammi tutto ciò che hai! Sei crudele! Finalmente del cibo caldo! Ma non è reale! E questi? Cosa? Sembra davvero tutto buono! Caspita! Così gommoso! Che fame! Lo so! Cosa? Credo di sapere cosa fare! Mettiamoci al lavoro! E adesso i denti! Ci sono quasi! E fatto! Che meraviglia! A-Ciù! Qualcuno ha un fazzoletto! Che schifo! Ma aspetta! Penso di poterci fare qualcosa! Ecco! Ora è il rossetto! È il tuo momento! Bene! Guarda! Ho un hamburger! Mmm! Cosa? No! Lo voglio! Dai! Dammelo! Non esiste! Va bene! Facciamo a scambio! Ci sto! Ma è finito! Ehi! Un hamburger! Incredibile! Oh no! I miei denti sono tutti sporchi! Ma credo di avere la soluzione! Per prima cosa serve un po' di dentifricio! E poi si mette in bocca! Io mi sento già meglio! E guarda che denti! Mi sento terribile! Cosa? Cos'è questo odore? Sei tu! Fa subito qualcosa! Va bene! Wow! Del dentifricio! Interessante! Ehi! Smettila! Sono tutto appiccicoso! Aiuto! Perfetto! Guarda cosa ho adesso! Ma com'è divertente! E so esattamente cosa fare! Guarda un po'! Ora devo solo attaccarlo al tubetto! Ci siamo! Puoi uscire adesso! È ora di lavarsi i denti! Che strano colore! Bene! Che bella sensazione! Meglio? Oh! Cos'hanno i tuoi denti? Ehi! No! Sono tutta bagnata! In realtà... Ne avevo bisogno! Guarda che sorriso smagliante! Se lo dici tu... È così luminoso qui dentro! Troppo luminoso! Ehi! Chiudi la bocca! Ti sto battendo! Belletta! Giocherò da sola! Barbici! Sassocante! Uffa! Che strazio! Forza! Ti batterò di sicuro! Non credo proprio! Vedi? No! Stai sudando? Eccoti! Un rotolo di carta igienica! Ma sì! Ora posso giocare! Ecco! Che figo! Guarda che bel disegno! Ma non ho ancora finito! Portiamolo al livello successivo! Ottimo! Manca solo un dettaglio! Puoi sorridere per me? Carino, vero? Un bel gazzino! Sei il mio nuovo migliore amico, va bene? Anche io ti voglio bene! Ci sono quasi riuscita! Sì, ho vinto! No, perché? Sì! Hai vinto? No! Ehi, ma non è giusto! Vuoi conoscere il mio nuovo amico? No! Non mi interessa! Perché lo hai fatto? La via è libera! Ho voglia di uno spuntino! Ed ecco qua! Oh, che meraviglia! E sono tutti miei! Iniziamo con la mela acida! Ancora, ancora! Così buoni! Io? Cosa ho fatto ai miei leccalecca? I miei dolcetti preziosi? Smettila di piangere! Un nuovo controller? Con tanti? Ehi, che figo! Prego! Ehi! Cos'è? Vediamo come funziona! Aspetta! Il mio leccalecca! La fortuna è dalla mia parte! Tu vai qui! Bene! Oh no! Si è sporcato! Invece no! È stato protetto! Almeno io ho questa! Ma aspetta! Dentro c'è qualcosa! Oh sì! Com'è dolce! Ma dai! Un leccalecca! E dei capelli! Fa niente! È come nuovo! Ehi! Aspetta! Posso farlo anch'io! Chi ha bisogno di gadget costosi quando si ha un cervello brillante? Wow! Ora voglio personalizzarlo! Tutto è più divertente con un volto! Vediamo! Ok! Ci sono! Saluta l'agente protettore di Lecca Lecca! Hai bisogno di una mano? O forse due? È ora di assaggiare! Che buono! Evviva! Sto per esplodere! Ecco che arriva! Ehi! Sei oltre la linea! Questo posto è per metà mio! Ti dispiace! Che cosa vuoi? Io devo fare la cacca! Sì eh! Non credo proprio! Sfida accettata! Te ne pentirai! Sì eh! Ecco! Smettila! Sei terribile! Aspetta ma è troppo pieno! Oh no! È quello che penso sia! Che schifo! Qualcuno mi aiuti? Sì vieni subito! Ciao ripara il pc! Davvero? Non vengo pagata abbastanza per questo? Che schifo! Non dimenticare anche quel punto! Devo ancora farla! Ci sta mettendo una vita! Che noia! Puoi parlare? Migliori amiche! Vuoi sapere un segreto? Davvero lui! Pronto? Oh guarda! Nessuno se ne accorgerà! Fantastico! Va bene ho finito! Il water? Posso andare ora? Cosa? Solo il suo lato! No! Che ora è? Stai piangendo per il water? Non credo sia tanto divertente! Eh? Cos'è? Sono così stanca! Aspetta cosa? Sto sognando o cosa? Sarò ricca! Evviva! Ehi agente! Fammi uscire! Per me? Con piacere! Più vicino! Più vicino! Vieni qui! Bravo agente! Sono per te! Oh ma grazie! Aspetta! Addio! Addio! Guarda qui! No! Cosa? Il mio posto non è qui! Aiuto! È ora di pagare per il tuo crimine! Questo posto è così disgustoso! E puzza di... Un bagno! Oh! Questa roba sembra tossica! Ma credo di vedere qualcosa! Una bambola! Chi ti ha messo lì? Aiutatemi! Va tutto bene tesoro? Eh? Sembra acqua di fogna! Ma credo sia meglio di niente! Tappati il naso! Almeno la sporcizia verde è sparita! Potrei usare quello straccio? Sei out! Out loud! Grazie! Ecco fatto! Sono tutta pulita! Oh! Che schifo! Te lo ridò subito! Be proud! Everything's all out! Eccu! Oh, accidenti! Mi è tornata l'allergia! Forse devo farmi un po' di tè! Già! È successo davvero! Che ridere! Oh, beh! Ma abbiamo ancora un problema con i tuoi capelli? Le punte! Perché sono così secche? Fammi pensare! Ci sarà qualcosa qui intorno! Ma certo! Laggiù! Wow! Che bello! Amo questo aggeggio! Ah ah! Come faccio a prenderlo? Mmm... Ho un piano! Ci sono... Ottimo! Deve essere lunghissima! Così arriva fino alla scrivania! Ecco! Ora vai a prendermi quel rasoio! Posso fare solo un tentativo! Ho raggiunto il mio obiettivo! Mira e fuoco! Ci è mancato poco! Ancora! Sì! Forza così! Non ci credo! Ci sono riuscita! Ah! Eliminiamo quelle brutte punte! Che soddisfazione! Molto meglio! Ti piace? Sei bellissima! Ma possiamo fare di meglio? Con le trecce non sbagli mai! Ci siamo quasi... Bello! Ma voglio anche un po' di colore! Tinta in prigione! Direi che possiamo farcela! Ok! Questo pennarello dovrebbe fare al caso nostro! Spero ti piaccia il rosso! Proprio come dal parrucchiere! Ferma così... Ecco! Che ne pensi? Sembri una rock star! Incredibile! E pensare che ho usato solo un pennarello! Quante risorse! Ok! Sì! Oh no! Sta arrivando! Non male! Fato e fatto! Ehi! È già finito l'inchiostro! Com'è possibile? Probabilmente ce n'è ancora! Aha! Ecco! Sapevo che c'era ancora dell'inchiostro! Cosa sarebbe questo posto senza di me? Ah! Risolto! Complimenti a me! Hai visto! Controllo dei baffi! Cosa c'è sulla mia bocca? Oddio! Sorpresa! Buon compleanno! Oh! Ti sei ricordato il mio compleanno! Ma che bella sorpresa! Adoro queste giambelle! Che buone! Non le mangerà tutte! Oh no! Il suo drink! Mi manca solo la cannuccia! Non è rimasto niente qui! Cosa? Mi serve un nuovo vestito! Hai proprio ragione! Che ne dici di quei palloncini? Sono anche rosa! Ce la faccio di sicuro! Ecco qua! Preso! Ah! Sono sicuro che non era niente! Che buona! Perfetto! Sei pronta? Ti calza a pennello! Ci credi che prima era un palloncino? Bello! Cos'è questo odore? Era deliziosa! Che schifo! Che puzza! Mi dispiace! Oddio! Cos'è? Mi hai rovinato il trucco! Sistemamelo! Lo farò! Ehi! Il tuo cibo! Mangia detenuta! Buon appetito! Che schifo! Assurdo! Ehi! Cos'è questo? Wow! Cos'è? Fantastico! Ma per cosa posso usarlo? Fammi pensare! Ehi! Fa davvero male! Ok! Che tipo strano! Cosa devo farci? Un topo! Ehi! Facciamone buon uso! Oh cavolo! E' formaggio quello? Oh! Un topo! Ah! Fuori di qui! Capito! E' stato più facile di quanto pensassi! Perfetto per le paillette! Ecco qua! Ora sei scintillante! E' come una sirena o qualcosa del genere! Spero che ti piaccia! Wow! Cosa? Oh! Per favore! Non farmi del male! Per favore! Oh! Calma fratello! Oh! Paura di un topolino! Oh! Bravo! Sei felice? Dobbiamo fare la ceretta! Cosa c'è qui sotto? Bingo! Quanti anni hanno queste cose? Questo è bagnato! E ora depiliamoci! Non farà male! So cosa sto facendo! Au! Au! Vai piano! Wow! Queste sì che sono gambe lisci! Questa non si mangia! E che mi dà un'idea! Chiudiamo questa caramellina! Lui ama i dolci! Buon divertimento! Interessante! Molto interessante! Oh! Immagino se è l'ora della maletta! Oh mio Dio! Il sapore è un po' diverso! Forse un nuovo gusto! Gli piace? Non è possibile! Comunque! Cosa c'è che non va? Fa male! Fa tanto male! Oh! Che succede? Non c'è problema! Tieni duro ragazza! Ci penso io! Quanto è grosso! Ti servono delle scarpe! Cosa sta facendo ora? Ma sono proprio bravo! Ah! Peccato non lo faccio di mestiere! Anche a me serve quella roba! Idea! Chi è? Sto venendo a prenderti! Perfetto! Ora tocca a me! Che fastidio! Mi serve una mano! Ecco! Prendile! Buon lavoro! E ora cerchiamo i materiali! Ok! Cosa abbiamo qui? Oh! Oh! Che ne dici? E questo? Per prima cosa devo tagliare la cannuccia! Perfetto! Queste sono le suole! E la colla? Ecco! Bella appiccicosa, baby! Perfetto! Guarda che carine! Ti stanno benissimo! Wow! Comodissime! E super eleganti! Decisamente! Oh! È tornato! Oh! Cos'è successo qui? Il mio biglietto di San Valentino ha rovinato! La mia dolce Fiona! Mi scusi! Oh! 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 Sono qui per mia figlia! No! È stata lei! Oh! Che ne dice di questo? Forse questo le farà cambiare idea! Oh! Che cos'è? Vediamo! Grande Scott! Finalmente sono un uovo ricco! Sei libera! Era ora! A mai più rivederci! Grazie papà! Oh! Tesoro! Ti ha portato un giocatto! È Ken! Il mio preferito! Giochiamo! Ora baciatevi! Muah 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 muah! Ci dati di più! Oh? Barbie! Cosa ti è successo? Oh! Ken! Ehm! Ups! Ehm! Addio! Oh! 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 Guarda come sono brutta! Mi prenderò cura io di te! Oh! Accidenti! Oh! Non mi amerai più! Adesso ti ripulisco! Un bel bagno caldo è la soluzione! Perché se n'è andato? Adesso ti consiglio di non parlare! Verrai bellissima! E ora vediamo la tua nuova faccia! Come sto? Bene! Ora rilassati! Non ho ancora finito! Ti piace Barbie? Oh! Sì! Che bello! E quanti colori! È ora di lavarti! Oh sì! Ah! Manca poco! Pronta? Cos'è questa puzza? Io non sono di sicuro! Io? Oh! Sono io che puzzo! Non preoccuparti, sonellina! Ci penso io! Deodoranti! Grazie! Usalo tutto! Che strano odore! Sì! 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 Ma aspetta! La! 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 La vita! Non riesco a respirare! In realtà non mi dispiace affatto! Cosa? Oh! Le ragazze! Oh! Tesoro! I tuoi capelli! Au! Oh! Dobbiamo fare qualcosa per i tuoi capelli! Tipo adesso! Iniziamo! Un bel balsamo è quello che ci vuole! Massaggiamo per bene! Ehi! Mi fai male! Resisti ancora un pochino! Vedi? Belli, morbidi e facili da spazzolare! Che buon profumo! Devo tagliarteli un po'! E so come fare! Prenderò in prestito questo! I ragazzi fanno schifo! Che diavolo? Ma dov'è? Sono sicuro che era qui! Beh, mi sono sbagliato! Ti farò un taglio moderno! Non tagliarli troppo però! Stai tranquilla! Ho quasi fatto! E poi sarai pronta! Sono quasi emozionata! Per favore non muoverti! Questa parte è fondamentale! Né troppo lunghi, né troppo corti! Manca una ciocca! Wow! Così morbidi e belli! Veramente! Con un paio di orecchini starai benissimo! Sono bellissima! E ho un'altra grande idea! Le mesh sono così di tendenza! E a te starà così bene il fucsia! Sei sicura? Fidati di me! Nuova vita, nuova me! Wow! Li adoro! Fammi vedere! E dovrei stare bene così! Prova questo qui di specchio! Adesso va meglio! Ma è ovvio! Oh, sei bellissima! Oh! Ma che cosa vedo? Peli sotto le ascelle! Ti devi fare subito depilare! E ho anche ciò che serve! Sapevo che un giorno mi sarebbe servita! È perfetta! Farà male! Per essere belle un po' bisogna soffrire! Ma ci metterò pochissimo! Un po' qua e un po' qua! Wow! Mi sento colorinata! Cosa sono quelli? È solo uno spuntino! Buoni, buonissimi! Servono per il tuo vestito! Sembra un ovetto di Pasqua! Come sei carina! Qualcosa non va! Ok! Ti troverò un altro vestito! Cos'è questo rumore? Ma che combina, Justin? Sento tutto! Oh, che buon te, Jessica! Perché non lo assaggi? Ma certo, sì! Che fai? Oh, cacchio! No! Sto giocando con i soldatini! Che vuoi? Se stai giocando con i soldatini, non hai bisogno del guardaroba di Barbie! Quindi lo prenderò io! A dopo, fratello! Oh, Jessica! Mi dispiace! Ma non hai più i vestiti! Ora a lei non ti serve più! Eh? Non sto piangendo! Sono solo allergie! Wow! Quanti vestiti! Oh, Justin! Ne ha acquistati tantissimi! E questo è l'abito perfetto per lei! Wow! Che bello! Adoro questo nuovo stile! Oh! E ora ti servono le scarpe! Eh? Che cosa? Ma sono troppo piccole! Te ne creerò un paio nuovo! Ho visto un video su YouTube! Mi serve solo una pistola a caldo! Ti farò le migliori scarpe di sempre! Mi hai bruciato il piede! Non fare la deboluccia! Un poco devi soffrire! Ora, dipingiamole! Mi serve un po' di smalto per le unghie! Un po' di rosa! E... Anche dei cuori blu! Wow! Che belle! Jessica rivolta il suo guardaroba! Non preoccuparti, Jessica! Te lo prendo io! Che fai? Justin! Che fai? Sto giocando con i soldatini! Sì, certo! Va bene! Prova le tue scarpe, Barbie! I could have my Gucci on! I could wear my Louis Vuitton! Allora! Le adoro! Ma i miei piedi bruciano ancora! Le unghie! Niente più colla a caldo! Ti prego! Questa volta ci servirà una penna 3D! Per favore, ora non muoverti! Ma perché non l'hai usata prima? Che cavolo! E ho finito! E ho finito! Santo cielo! Cosa mi hai combinato? Non ho ancora finito! Le unghie corte vanno di moda! Meno male! E ho quasi finito! Che belle unghie! Mi piace il rosa! Ottima idea, sorellina! Ma dai! Sul serio? Voglio le unghie colorate! Va bene! Adesso tocca a te! No! Facciamo una bella festa in piscina! Ciao! Avrai bisogno di un bikini per andarci! Si può accedere solo col costume da bagno! Accidenti! L'hai sentita! Te ne farò subito uno! Se ne deve pentire! So cosa fare! Devo solo fare qualche taglio! La parte sotto è pronta! Ora facciamo il sopra! Adoro il rosa e il blu insieme! I video su YouTube sono una vera salvezza! Sarai così alla moda! E un giorno diventerò una grande stilista! Quasi fatto! Dovremo aspettare un po'! Spero sia della taglia giusta! Ci siamo! Oh! Sei così geniale! Ed è della taglia perfetta! Vediamo cosa dirà quella Barbie adesso! Ora ho un bel bikini! Posso venire alla festa? Oh! Ma il tuo bikini è molto migliore del mio! Hai visto? Adesso mi potrò godere il pomeriggio in totale relax! Oh! Invece credo di dover andare in bagno! Oh! Ti farò un water! Sarà più difficile dei sandali! Ma adoro creare oggetti! E non si tratta di una vera e propria scienza! Sedile! Fatto! Ora rendiamolo più stiloso e confortevole! E... Ho finito! Ho finito! Che bel water! Ma hai già fatto? È solo cioccolato! Finalmente! L'ultima consegna! Il ragazzo delle consegne! Ciao! La tua casa delle bambule è arrivata! Giriamola così! Vieni! Vieni! Prendile! È pesante! Oh no! Ci sono tanti piccoli pezzi! Non perdiamo altro tempo! Sarà la migliore delle mie creazioni finora! Assemblaggio è il mio secondo nome! E... Gira! Mi gira la testa! Wow! Come sono stata brava! E penso che ora potrà trasferirsi! Mancano ancora alcuni dettagli! L'arredamento è molto importante! E mancano solo alcune belle decorazioni! Ma com'è bellina! Dov'è finita la mia bambola? Calzini! Non è qui! No! Non è qui! No! No! Barbie! No! Beh! Almeno posso sgranocchiare qualcosa nel frattempo! Dove sei? Oh no! Eccola! Fammi uscire! Non guardare! E tu che ci fai qui? Sto giocando con il mio... Soldatino! Lascia che ti mostri la tua nuova casa! Sì, grazie! Wow! È tutto ciò che ho sempre desiderato! Un cucciolo! È così perfetta! Beh, il tuo bambino avrà bisogno di compagnia! Che bella casa! Sì! Ma mi manca Ken! Oh! Sta arrivando! Tesoro! Sono tornato da te! Oh! Mi sei mancato così tanto! Questi sono per te! Che diavolo! Belle scarpe! Mi si sono rotte le acque! Oh! Il bambino sta nascendo! Cosa devo fare? Lascia fare a me, sorellina! Oh! Che male! Barbie! Ho bisogno che ti calmi! È ora di far nascere il bambino! Figgi! 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 Mettiamoci al lavoro! Non posso più guardare! Dov'è il mio bambino? È un maschio! È così bello! Ti voglio bene! Ciao Ken! Scripiti papà! Sì sì! Scripiti papà! Scripiti papà! Yeah yeah! Scripiti papà! Come? Scripiti papà! Boom yeah! Che parlante è? Ecco lo voglio io! Oh no! È il mio! Oh ma andiamo! Voi due state facendo troppa confusione! Basta! Siete in arresto! No! Cheese! Sono innocenti! Non posso stare qui! Nemmeno io! Oh no! Perché sei così arrabbiata? Che male! Su cosa mi sono seduta? Credo abbiano lasciato qualcosa anche per me! Un animale domestico! Che carino! Mi prendono cura io di te! La mia pancia! Dov'è il bagno? Beh almeno c'è un water! No no! No 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 no! Fa davvero schifo! È la prima volta che vedi un water sporco! Oh ma lo so! Vai silenzio! Ha bisogno di qualche detergente per pulire! Eccoci Antuella! Ecco lei signorina! E un po' di candigine! Grazie! Niente più batter puzzolente! Ho visto farlo ai miei maggiordomi! Non può essere così difficile! Ora è arrivato il momento di strofinare! Bene! Basta infilarlo e poi devo solo premere questo pulsante! Uh! Guarda come pulisce! Pensavo che sarebbe stato molto più difficile! Ora devo solo tirare lo sciacquone! E addio sporcizia! È stato più facile di quanto pensassi! Ora rendiamolo più lussuoso! Com'è morbido! Non sto guardando lo giuro! Ehi! Non sbirciare! Non credo proprio! Eww! Che puzza! Credo di doverci andare anch'io! Non devo usare quel cesto spero! No! Credo di avere un'idea! Mi spiace amico! Dovrò prendere in prestito il tuo trono! Oh! Ma è così piccolo! Una barba spacca! È stato più facile di quanto pensassi! Ho finito! Grazie Ken! Schipiti! Blah! La cena per Ginger! Consegna da parte di tua madre! Un panino con fagioli e cotiche! Ehi! Ehi! Per te! Per me? Deve essere il mio giorno fortunato! Tutto questo per fagioli e cotiche! Io ordinerò qualcosa! Prenderò un hamburger! Io non ho una mamma! Ma avrò te! Una chiave! E che ci faccio? È qui! Il suo ordine! Tieni il resto! Hamburger e patatine! Venite qui! Non così fretta! Non hai visto il cartello? Gli hamburger non sono ammessi! Lo confischerò io! Ma... 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 Cosa posso fare? Oh! Lo so! Che c'è? Oh! Figo! Vai! Presto! È andato! Wow! Questo? Grazie! Cosa è quello? Il pane va bene, almeno credo! Vai pure! Figo! Wow! Non vedo l'ora di divorarmelo! Peccato che qui dentro non si possa mangiare un bell'hamburger! Ma... Mi accontenterò! Ottimo! Wow! Divino! Quello sembra buono! Posso andare fuori e rimediare del cibo! Pulisco io qui, signora gente! E questa... E questa... Uscita? Non so cosa significhi! Che noia! Credo che farò un altro pisolino! Questo coscibe è durissimo! Ehm... Ehm... Questo coscibe è durissimo! Questo letto è così duro! Ehm... Si dorme molto meglio in strada! Ehm... Come posso fare? Ehm... 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 Non posso dormire così! Ehm... Posso usare questo? Sembra che ci sia stata una festa! Ehm... 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 Dormirò come un bambino! Dormirò come un bambino! Ehm... Ehm... Ora devo aspirare tutta l'aria! Ehm... 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 Cos'è questo rumore? Ehm... 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 Un letto fatto con i palloncini! Ehm... Forse ripasserò le mie abilità con le freccette! Ehm... 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 Sono passati 5 anni! Esatto! Ehm... Oh no! Solo 6! Ehm... Ah? A chi importa? Ehm... Non posso più stare qui! Devo fare qualcosa! Diamoci da fare! Agente! Ehi! Ehi! Mi fai uscire? 500 euro! Sono soldi sparchi! Ehm... Oh niente! Piano B! Niente che un lucidalabbra non possa risolvere! Non potrà resistermi! Libertà, sto arrivando! Oh, agente! Può avvicinarsi un pochino? C'è qualcosa che non va! Vorrei tanto un po' d'aria fresca! Può farmi uscire? No! Sono sposato con questa bella signora! Non è adorabile? Non ha funzionato! Non so cosa fare! Ehi, cosa c'è che non va? Ah! Posso farci uscire da qui! Scaviamo una buca per uscire! Cinque ore dopo! Ah! Non ce la faccio più! Ah! Ce l'ho fatta! Riuscirò ad infilarmi? C'è solo un modo per scoprirlo! Sono nel bagno! Oh oh! Oh! Non posso più resistere! Cosa c'era con l'amburger? Ah! Oh! Eh! Aspetta! Ah! Ma che schifo! Sei proprio un imbranato! Ah ah! Fanno tu allora! Ah! Deve esservi sfuggito qualcosa! Ah! No! Non il cibo! Forza, pensa! Ah ah! Ecco! Ah! Ho la chiave proprio qui! Ah! Hai visto che ho trovato un modo per fuggire! Ah! Davvero? Tu hai la chiave! Sì! E tu no! Andiamo! Ops! Oh shh! Ops! Silenzio! Ehi! Forza da questa parte! Sono dietro di te! Presi! Oh! Ma dove sono? Oh! Eccolo! Oh! Eccolo! Ops! Salve, agente! Avete un aspetto familiare! Ma non so chi siete! Vieni tu! Ciao, Dada! Vuoi assaggiare? Oh! Come sei brava! Ciao, ciao! E prenditi cura della mia bambina! Oh! Ma che tipi strani! Oh! Ecco l'elecco delle cose da fare! Vediamo! Non mordere! Vieni qui! Voglio morderti! Oh! Ora capisco! Non mi lasci altra scelta! Adesso mi lascerai morderti! Ma che fai? Ho detto che mi lascerai morderti! Sì, padrone! Ho detto che mi lascerai morderti! E ora dormi! Vittoria! Ora posso tagliare la mano! Ma non ci arrivo fin lassù! Userò questa sedia! Così pesante! Ecco! Sono un genio! Devo prima mettere il bavaglio! Oh! Ho dimenticato la valigia! Ciao, mamma! Ciao, signora! Va bene! Non mordere, ok? Ho fame! Oh! Ok, va bene! Devi mangiare qualcosa di sano! Sto morando di fame! Ho bisogno di cibo! Che ne dici di un po' di broccoli? Non esiste! Non ti piace? Oh, ma certo! Ti piace il cibo rosso, vero? Ci penso io! Aggiungerò qualche goccia di colorante alimentare e lo mescolerò con i broccoli! Ora li mangerà di sicuro! Ecco! Broccoli! E adesso? Aspetta! Ma quello è un teschio? Ho un'idea! A questa strana bambina piace tutto ciò che è macabro! Qui ti verserò la zuppa di broccoli dentro a questo teschio e ora aggiungerò dei noodles! In questo modo sembrerà cervello! Personalmente non mangerai nulla di simile! Ma ehi! Si piace a lei! Ecco il tuo cibo, mia cara! Wow! Sembra buono! Cervello! Non c'è nulla di strana nascosto qui dentro, vero? Tu assaggia! Una foto per la mamma! Cheese! Sorridi! Usa il filtro Barbie! Rimani ferma! Ho quasi fatto! Tu metto che verrai benissimo! La tua mamma l'adorerà! Bene! E adesso? Bere, bevande e sane! Che ci vuole? Ecco qua! Ehi! Eccola tua bevanda! Bevanda? Sì! È per te! Bevila tu! Io berrò te! Che dici di questa? Cosa intendi? Buono! E' un po' di serve direttamente dalla fonte! Sono ingreglietti freschi per te! Che delizia! Oh! Vedrai che ti piacerà! Forza! Voglio assaggiare! E' fatto! Evviva! Un attimo! Prima dobbiamo mettere il liquido in un bicchiere! Ma certo! Buona idea! Non preoccuparti! Ce n'è moltissimo! Perfetto! Wow! Grazie! Ancora Tota! Ancora! Basta! Sono esausto! Tranquillo! Ho del succo! Ma perché non me l'hai detto prima? Ora combatti! È molto presa da quel gioco! Oh! Ma non è permesso avere dei gadget! Ok! Basta così! Sto facendo! Non sono messi gadget! Usa questo sketchbook per sfogarti! Troverò un modo per liberarmi di te! Che noia! Ora ti disegnerò! E sarai bruttissimo! Aspetta di vedere il mio capolavoro! Tutto ok? Guarda! Oh! Siamo noi! Che brava! Oh! Ho disegnato anche questo! E questo! Non è fantastico? Io me ne vado! Vittoria! Non puoi avere alcun gadget! Ginger! Ah! Bene! Come posso farla smettere? Dovrebbe esserci una risposta nell'enciclopedia dei vampiri! Uh! Mi piace questa soluzione! Quindi l'aglio ferma i vampiri, eh! So cosa fare! Cos'è questo odore? Oh! È aglio! Dammi quel telefono o io ti darò dell'aglio! Oh! Come vuoi? Ma stai lontano da me! Piu! Preso! Ho fame! Oh! Ordinerò una pizza! Voglio questa! E ora aspettiamo! Sì! Pizza! Ehi! Ciao! Ecco il tuo ordine! Wow! Salve! Che dici di mangiare con me questa pizza? Se proprio insisti! Ah! Grande! Prendi! Mangetela da solo! Che cretino! Non posso crederci! Ehi! Stai bene? Toglilo! Ci sei cascato! Ti ho pregato! Sono proprio stufo! Zef! Giocherò da sola! Ehi! Che c'è? Ci ho riflettuto! E... Ora puoi mordermi! Sì! Fermati! Un'ultima cosa! Non dimenticarti del sale! Sì! Ora sì che sarà buono! Sì! Ancora! Sono pronta a mordere! Sì! Continua! Non avevo capito che è lo dog! Non mi piace! Mi ha ingannata! Che bravo! Ci sono proprio cascata! Fatti cinque! Sei troppo fico! Amici! Amici! Facciamoci una foto! Di Cheese! Che bei tempi! La migliore tata di sempre! È ora di andare! Ehi, tesoro! Odio quando mi chiama tesoro! Però tanto che le piace al viola! Che bello! Sto arrivando! Ho bisogno di una tata! Arrivo! Salve! Finalmente una tata! Buona fortuna! Non male! Addio! Nuova tata! Corri! Io odio le tate! Oh no! È spezzata! Cosa c'è che non va? Una schienza nel dito! Non preoccuparti! No 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 no! Che cos'hai? Occhi d'occhi! So cosa fare! Guarda! Guarda! Una moneta! Una moneta! Sì! Stai ferma! Stai ferma! Oh! Fatto! Grazie! Di nuovo! Ho fame! Ti ha preparato qualcosa! Ecco il tuo porridge! Non lo voglio! Schivata al volo! Smetti di piangere! Un secondo! Qualcosa! Qualcosa! Non preoccuparti! Non preoccuparti! Ci penso io! Almeno lo spero! Okidoki! Mi devo concentrare! Posso farcela? Passato di pomodoro! Bene! Bene! Tata! Tata ho fame! Solo un secondo! Spuntino di emergenza! Beh! È un'emergenza! Sembra buono! Mi piace! Formaggio! Okidoki! Quasi fatto! Mamma mia! Eccellente! Ho quasi fatto! Mini pizza! Pizze leggiose per... Amo questo spuntino! No! Non mangiare quei funghi! Il mio pancino! Mamma mia! Sta crescendo a dismisura! Ciao! Sono gigante! Oh no! Oh no! Come dolce mangerai la pozzone ripicciolente! Mettiti comoda! Buonanotte, piccola Ginger! Sogni d'oro! Chi se ne frega! C'è qualcuno? Cos'è successo? Che cosa c'è? Un mostro! Un mostro? Non preoccuparti! Non è niente! Oh no! Oh no! Non andare via! Ho paura del buio! Del buio? Ho un'idea! Ci penso io! Proprio quello che mi serve! Voglio colorarli! E credo che il verde sia il colore più adatto! Eccellente! Ho vinto il premio! come miglior ingegnere dell'anno! Fantastico! Mi piace molto! Incredibile! Finalmente è ora di dormire! Ma questo sei tu! Come? Ho bisogno di riposare! Ho bisogno di riposare! Aiuto! Non preoccuparti! Sono qui per salvarti! Wow! Mario! Wow! Lui è la mia data! La colazione è pronta! Ginger! Buongiorno! Mamma mia! Devo fare qualcosa! Devi cambiarti i vestiti! Ecco! No! Mi piace il mio pigiama! Oh! L'ho visto fare su Tik Tok! Che cos'è? Okidoki! È pronto! Il tuo nuovo outfit! Oh! Wow! Wow! Voglio provarlo! Ma certo! Ecco di qua! Wow! Non mi piace il verde! Che ne dici del rosa? Sarà spettacolare! Wow! Sono la principessa! Mi piace! Sì! Wow! È troppo lungo! Che ne dici di questi? Oh! Ciao! Sono malata! Oh! Sei malata! Allora hai bisogno di sciroppo per la tosse! Okidoki! Eccoti! Cosa posso fare? Ti serve un fungo curativo? Sono tre monete! Eccole qua! Prendile! Wow! Eccoti! Perfetto! Prendi questo, Ginger! Oh! Un fuggo! Adoro i fughi! Ti senti meglio? Mi sento benissimo! Grazie, tata! La migliore tata! Io! Oh! Sono tornata! Eccolo! Oh! Oh! Mamma! Guarda! Mario è la migliore tata! Oh! Che bello tesoro! Oh! 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 Cosa sono queste strane luci? Oh! Wow! Ah! Oh! 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 Ah! Aiuto! Aiuto! Oh! Per favore! Salvala! Oh! Oh! Non preoccuparti! Oh! Oh! Ginger! Ti salverò io! Oh! Wow! Che figata! Oh! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Oh! Oh! Oh!